Siamo minatori di Francia, siamo venuti qui per sostenere questa associazione che ha iniziato questo processo dell'ambiente perché è una cosa molto importante per noi, perché è il primo processo europeo, per non dire mondiale, che sta succedendo oggi per quella catastrofa che ha iniziato l'ambiente. Cosa vi aspettate? Aspettiamo che la giustizia sia corretta e che viena a condannare quelli che hanno inguinato e fatto tanti morti di questo prodotto sul profito dei soldi.